Ciao e benvenuto! Ecco la nostra top 4 delle migliori TV OLED del 2021. Let's go! Al quarto posto ecco la TV LG OLED 4K da 195 cm OLED 77CX6LA. Questo modello LG possiede un grande schermo 4K ad altissima definizione. Con una diagonale di 195 cm utilizza un pannello tecnologico OLED. I suoi pixel sono autoemissivi, cioè ognuno di loro produce la propria luce. Infatti produrrà immagini con contrasti e neri sorprendenti. In termini di elaborazione del suono è possibile associare questo TV a un auricolare Bluetooth. Di conseguenza potrai beneficiare a pieno di un vero suono spazializzato, anche in modalità wireless. Tuttavia la televisione non supporta il DTS audio. Come al solito su Top Tech, se vuoi dettagli sulle caratteristiche ed i prezzi, vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a disposizione. Al terzo posto ecco la TV Panasonic OLED TX55HZ1000E. Questo modello Panasonic è uno dei migliori OLED che integra un processore HCX Pro, che offre un'immagine eccezionale con nitidezza ottimale e dettagli eccezionali. Scoprirai quindi un'immagine Ultra HD 4K a 3840x2160 pixel e sperimenterai bei momenti con amici o familiari. Offre un rapporto immagine ottimo e neri profondi, per una perfetta riproduzione dei colori e un'incredibile esperienza visiva. Puoi anche attivare la modalità Film Maker e vedere i risultati dal punto di vista del regista. Inoltre ha un sistema stereo con una potenza totale di 30 Watt e supporta il Dolby Atmos. Sperimenterai quindi una grandiosa immersione sonora. Allo stesso modo è compatibile con gli standard Dolby Vision, HDR10 Plus e Dolby Vision IQ. Il rovescio della medaglia di questo dispositivo è che il suo sistema operativo è limitato. Clicca nel link in descrizione per avere ulteriori dettagli. Al secondo posto ecco la TV LG OLED 55CX6LA. L'ottima elaborazione grafica di questa TV è di tipo dinamico grazie alla tecnologia HDR Dynamic Tone Mapping. Inoltre è un televisore compatibile con contenuti video 4K high frame rate. Ciò gli consente di elaborare 120 frame al secondo, supportando le funzioni G-Sync e FreeSync. Grazie alla sua funzione ALM passa automaticamente alla modalità immagine di gioco. Beneficerai quindi di una bassa latenza, non appena questo schermo al plasma rileva una console di gioco PS4 su uno dei suoi ingressi HDMI 2.1. Inoltre, grazie agli algoritmi Deep Learning ed il suo processore Gen 3 AI, ti offre un rendering ottimale delle immagini e suono di qualità. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te, fai clic sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto ecco la TV LG 4K 164 cm OLED 65B9S, che offre una gamma di colori molto ampia rappresentata dalla gamma Wide Color. Mostra un'elevata luminanza e profondità dei neri. Ciò garantisce contenuti e immagini video HDR molto più dinamici e definiti. Inoltre, questo televisore è compatibile con gli standard Dolby Vision, Advanced HDR 10 e HLG. Allo stesso modo fornisce l'upscaling dei contenuti standard al fine di offrirti una gamma più ampia di colori. Incorpora funzioni multimediali per riprodurre e sfogliare file audio e video sulla rete locale. Puoi navigare più facilmente collegando un mouse o una tastiera alle sue porte USB. Potrà inoltre registrare i tuoi programmi TV e riprodurre audio o video. Mi chiedi come? Inserendo nelle porte USB un disco rigido esterno o una tua chiave USB. Molto semplice! Perché non provare? Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a scegliere, metti mi piace e iscriviti al canale Top Tech per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!